A Catania lavori in corso in questi giorni per il rifiacimento di alcune strade oramai dissestate. La città si prepara alla festività Gatine con un restyling alle vie che ospiteranno la processione. Sono iniziati infatti i lavori lungo Via Libertà dove una corsia è stata chiusa al traffico per rifare il manto stradale. E proprio a causa del make-up in vista della festa si accendono i riflettori anche su una zona centrale, centralissima. Si tratta del sagrato della cattedrale che è stato recentemente rattoppato con dell'asfalto. Il risultato ha suscitato molte polemiche sul web, fra cui quella del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Ma anche i passanti stamani non risparmiano giudizi severi. È la rappresentazione classica del degrado urbano che vive l'intero complesso cittadino. Ad onor del vero da più parti è stato segnalato che anche prima di questo intervento realizzato in dicembre per evitare di scivolare ed in vista proprio delle festività Gatine, in quell'area c'era un tappetino in asfalto che con l'usura è andato via via sbiadendosi. Il colpo d'occhio non eccezionale, ieri come oggi, caso o bufala che esso sia.